ciao ragazzi bentornati o benvenuti nel mio canale youtube un'altra puntatona dedicata alla gopro fusion che c'è gentilmente stata concessa dai ragazzi di gocamera.it vi faccio fare un test oggi facciamo un test dedicato all'audio abbiamo parlato di audio spaziale l'audio spaziale di gopro permette grazie ai suoi microfoni di prendere diciamo da punti differenti l'audio stesso quindi cosa farò adesso andrò ad accendere una canzone sul telefonino andrò ad avviare una canzone sul telefono in modo che sentiate da dove arriva il suono e faremo questo test insieme perché ammetto che con la garmin verb ci ho provato ma non ho notato questo suono stereoscopico a 360 gradi vediamo se invece con gopro fusion riusciamo ad ottenere un risultato che ci possa piacere quindi play con una canzone di joachim karud se non lo conoscete andate a seguirlo perché merita veramente e stiamo davanti alla telecamera iniziamo a ruotare attorno a 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 valutano anche questo discorso delle riprese con questo audio stereoscopico collegato che potrebbe essere una cosa molto interessante per molti di noi e di voi che possono utilizzare anche la gopro fusion per lavoro bene spegniamo questa canzone i miei giri attorno alla telecamera li ho fatti spero che anche questo video come tutti gli altri che se non avete visto andate a vederli sotto qui nell'info box spero che anche questo video vi sia piaciuto non mi resta che salutarvi ricordandovi di cliccare mi piace su questo video e su tutti gli altri video di condividerlo se pensate che possa essere interessante per alcuni dei vostri amici questo discorso dell'audio a 300 160 gradi e condividetelo cliccate mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto un saluto a tutti quanti ci vediamo con i prossimi test che saranno dedicati avevo promesso timelapse e nightlapse non ho ancora avuto il tempo di farli ma giuro mi ci dedico magari a venezia perché in queste giornate dovrò andare anche a venezia per per le feste quindi stay tuned ci vediamo con il prossimo video ciao